Grave malore per Nadia Toffa, ricoverata in terapia intensiva. Nadia Toffa, inviata della trasmissione televisiva Le Iene, dopo un improvviso malore, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara di Trieste. Toffa, 39 anni, si trovava in un albergo del centro quando si è sentita male ed avrebbe perso conoscenza. La notizia è riportata sulla Homepage del Piccolo di Trieste. Giunti i soccorsi, Toffa è stata portata in ambulanza e ricoverata nel reparto di rianimazione del nosocomio triestino. Non sono al momento noti i motivi per i quali Toffa si trovasse a Trieste, città alla quale in passato ha dedicato diversi servizi televisivi, soprattutto in merito alla ferriera di Trieste. Nell'aprile del 2016 la Toffa era stata operata oggi per un brutto neo e su Facebook aveva raccomandato tutti di fare regolarmente le visite di controllo.